signore e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un nuovo video in cui continuiamo a parlare dell'utilizzo bellico degli stuca da parte della regia aeronautica parliamo soprattutto della del colpo di maglio che travolgerà e se vogliamo annienterà per sempre le residue ambizioni belliche dell'italia fascista parliamo dell'arrivo della catastrofe parliamo dell'operazione compass di come gli stuca italiani affrontarono l'operazione compass ci dicono gori e borciotti che il 96esimo gruppo viene inviato in tripolitania la situazione nell'inverno 40 41 costrinse il comando supremo ad accettare dall'alleato tedesco uomini e mezzi per respingere la pressione britannica in libia chiamiamo la pressione perché praticamente da da novembre a da novembre a marzo ci hanno respinto di oltre mille chilometri catturando 130 mila uomini c'è insomma chiamiamo la pressione ecco dicevo scendeva al seguito del piccolo corpo di spedizione comandato da dal generale erwin rommel e chiamato dac il deutsch africa corps o corpo tedesco d'africa anche una componente aerea stanziata in sicilia e tripolitania con l'aiuto dei fidi stuca rommel contrattaccò subito le stanche truppe britanniche che avevano sforzato oltremodo la loro catena logistica tanto più ti allontani dalle tue basi tanto più la tua avanzata rallenta tanto più tu diventi vulnerabile ok la grande legge della guerra la logistica signori ecco applicando rommel applicò subito i canoni tipici della blitzkrieg respingendo il generale wavell oltre tobruck in questa successione di fatti erano stati inviati anche gli junkers 87 r2 a grande autonomia del 96esimo gruppo perché il maresciallo graziani intendeva usarli contro unità navali avversarie che cannoneggiavano le fortificazioni italiane lungo la costa libica coordinazione tra truppe di terra e unità navali coordinazione tra truppe di terra unità navali e aviazione tutte cose che noi non sapevamo dove stavano di casa non giriamoci attorno è comunque possibile che si volessero impiegare i picchiatelli anche sulle colonne celeri del generale o'connor ma lo stuca aveva raccolto i successi che gli si attribuivano in polonia e francia più per merito della teoria della guerra lampo più per merito della blitzkrieg o più precisamente della bevegungskrieg non la guerra lampo la guerra di movimento che per le intrinseche qualità di cacciacarri dell'apparecchio il comando italiano si manteneva tuttavia assai restio ad accontentare graziani per svariate e valide ragioni in particolare si sapeva che lo junkers 87 sarebbe stato decisamente esposto all'offesa dei cacciatori britannici se non convenientemente protetto e in quel momento i caccia italiani non avevano alcuna possibilità di operare in questo senso i caccia italiani non potevano proteggere altro che se stessi a ciò si aggiunga la precaria situazione generale del fronte precaria per dire eufemisticamente e la mancanza di adeguati collegamenti con il regio esercito e la regia marina assolutamente indispensabili nella scelta degli obiettivi per comprendere come gli avrebbero potuto fare ben poco come sempre aeronautica regia aeronautica regio esercito regia marina non comunicavano fra di loro non solo non potevano ma neppure volevano comunicare fra di loro ne abbiamo parlato più volte quindi lasciamo stare tuttavia non si poteva più a lungo rifiutare l'invio dei picchiatelli e venne disposto in tal senso nel gennaio 1941 oltre a quanto detto sulla situazione strategica dovevano essere affrontati non secondari problemi logistici sua signoria la logistica sempre lei in particolare sull'armamento di caduta e gli apparati antisabbia uno dei primi tentativi per svincolarsi in parte dalle forniture tedesche fu compiuto con l'adattamento di munizionamento di caduta italiano alla forcella dello stuca a guidonia vennero calcolate le fascette di aggancio per bombe da 50 100 250 e 500 chili e il loro primo impiego si ebbe in albania e grecia il tenente colonnello moscatelli redasse una esaurente relazione a metà dicembre 1940 sull'uso degli ordigni italiani ritenendo l'impiego di impiego normale ai travetti alari le bombe da 50 e 100 chili viceversa alla forcella centrale poteva essere fissata solo quella da 250 chili dato che la bomba da mezza tonnellata italiana era troppo lunga ferme restavano tutte le limitazioni di qualità ovvero sia involucro e innesco che facevano preferire le bombe sc ed sd tedesche di cui si sollecitavano altri invii si rammentava anche l'inoltro dei ritardi di sicurezza prodotti per le bombe degli assaltatori breda 65 poiché in quelle settimane venivano compiute missioni molto simili all'assalto con picchiate a 45 gradi e sganci sui 100 300 metri di quota in pratica a parte le varie considerazioni tecniche l'unico accessorio indispensabile ai nostri picchiatelli per montare le bombe nazionali 250 t era la fascetta con perni per la forcella deviatrice ricordatevi ricordatevi il meccanismo che negli stuca e come dire questa forcella che sganciava allontanava la bomba dalla fusoliera dell'aereo portandola fuori dal disco dell'elica usando la mia lavagnetta ecco vedete qua più o meno ecco questa qui come notate c'era lo stuca era dotato di un attacco a compasso per la bomba ventrale che durante la picchiata più o meno verticale allontanava la bomba sotto l'attacco ventrale dal disco dell'elica che oggettivamente non è una bella cosa se la tua se il tuo ordigno se l'ordigno che stai sganciando ti centra l'elica mentre sei in picchiata quasi verticale insomma un accessorio assolutamente indispensabile in pratica allora dicevo a questa maniera il 96esimo gruppo andò in libia con le bombe 250 t ma le relative fasce vennero spedite da roma erano prodotte dalla ditta contini con aerei del 52esimo stormo al comando del 96esimo gruppo a tripoli fin dalla metà del febbraio 41 le fascette che il personale portò in africa con sé ed assolutamente indispensabili furono oggetto di varie peripezie il 96esimo gruppo si trovava ai primi di gennaio 41 a comiso per una missione antinave facendo la spola tra le puglie e la sicilia stava transitando un altro convoglio britannico ampiamente scortato proveniente da gibilterra una parte del piano cosiddetto excess inquadrato in un vasto movimento natale inter e navale scusate interessante anche il mediterraneo orientale ricordatevi una cosa i convogli di rifornimento per malta non furono mai semplici convogli ma furono operazioni militari estremamente complesse per i quali il convoglio nelle quali il convoglio era solo una parte neanche la più importante l'ammiraglio cunningham sapeva che gli italiani avrebbero contrastato la manovra ma ora vi erano anche aliquote di stuca della luftwaffe a complicare le cose il 96esimo gruppo ricevette l'ordine di trasferirsi a lecce l'otto gennaio 41 con 12 richard gli r2 quelli a lunga a lunga autonomia e 9 di questi apparecchi poterono intervenire nel pomeriggio del giorno dopo scortati da circa 12 cr 42 falco del 23esimo gruppo obiettivo le unità della mediterranean fleet tuttavia non avendo le avvistate vennero colpite installazioni e navi a malta per la precisione a mars a scirocco il 10 gennaio il 10 gennaio invece vi fu una notevolissima attività per gli junkers 87r dell'asse sia di stuca che i picchiatelli che si accanirono sul convoglio e sulla squadra h sulla force h di scorta al mattino tre picchiatelli rilevarono l'excess ad una quarantina di miglia a sud di pantelleria nel pomeriggio sei stuca italiani sganciarono a largo di gozo sulla portaerei hms illustrius e su altre unità i tre r2 decollati da comiso alle 11 e 15 appartenevano alla 236esima squadriglia e avevano i comandi il solito tenente malvezzi che poi diventerà uno dei nostri più brillanti cacciatori il sergente maggiore mazzei e il sergente crespi tenete presente una cosa erano gli unici apparecchi che potevano disporre dei due serbatoi per grande autonomia in quanto in quanto gli altri nove juncker 77 come obbligatorio li avevano sganciati prima del tuffo durante l'azione del giorno precedente e a comiso non ce n'erano altri di ricambio dato che gli apparecchi del comandante ercolani avevano volato da lecce con una sd 500 e i due serbatoi su balari da 300 litri i tre r2 di malvezzi avvistarono le unità avversarie alle 13 e sganciarono ad appena 300 metri dichiarando due centri su un incrociatore visto poi incendiarsi gli altri sei stuca del 96esimo gruppo liberarono anch'essi le loro sd 500 da bassa quota risultando rilevando buoni risultati su portaerei ed altre navi nella lotta intervennero anche i rihard germanici commissioni portate il 10 e l'11 gennaio erano apparecchi del secondo stuca greschwader 2 guidati dal maggio comandati dal maggiore ennecherus e dal primo stuca e dal primo e dal primo stormo dal primo dal primo gruppo scusate dello stuca greschwader 1 del capitano e il giorno 10 vennero rivendicati centri sulla illustrius e su altre unità mentre nella giornata successiva una dozzina di stuca del secondo stuca gruppe del secondo gruppe dello stuca greschwader 2 attaccò un paio di incrociatori scortati dichiarando vari centri da parte britannica le relazioni ufficiali redatte dopo il conflitto riferiscono di vario naviglio danneggiato non che la perdita dell'incrociatore hms southampton in posizione 34 gradi 54 nord 18 24 est mentre insieme al gloucester e a due cacciatorpedinieri stava rientrando ad alessandria tra le unità fuori uso la illustrius che dovesse essere che dovette essere avviata ad estesi lavori ed il ct gallant che ebbe la prua asportata da una mina sia le relazioni dell'ammiragliato sia la storiografia e la diaristica parlano degli attacchi degli junkers 87 con notevole ammirazione per la perizia e il coraggio degli equipaggi i britannici per l'inconfondibile estetica degli stuca non fecero riferimenti alla nazionalità credendoli sempre tedeschi logicamente la forma inconfondibile la sagoma inconfondibile l'attacco inconfondibile viene più facile dire stuca invece che ne fagi attenzione picchiatelli ok non è facile distinguere le insegne ma l'aeroplano era difficilmente non identifica non identificabile ok mentre il 96esimo gruppo si trovava ancora a comiso il 12 gennaio pervenne dal comando aeronautica sicilia l'ordine di rientrare a lecce e di iniziare i preparativi per trasferirsi in libia nella giornata successiva volarono a galatina i vari aerei poi sostituiti con quelli del 97esimo e subito venivano iniziati i preparativi per l'inoltro del materiale e del personale di governo a mezzo degli sm82 dei sas i servizi aerei speciali personale e attrezzature in eccedenza restavano in dotazione al 97esimo la 236esima squadriglia aveva una dotazione di soltanto 5 stuca tipo r2 i verk nummer 5794 5809 5799 5793 5801 pilotati dal maggiore ercolani dal sottotenente lolli dal sergente maggiore mazzei dal sergente crispi e dal maresciallo marchetti che guidava il velivolo del tenente malvezzi che purtroppo stava male questa formazione partita da lecce il 30 di gennaio arrivò a tripoli il primo febbraio alle 13 e 35 via comiso pantelleria rotta obbligatoria per la sicurezza dei voli nel pomeriggio immediato trasferimento al campo interno mt ovvero sia misurata dove tutti si sistemarono alla meglio nel frattempo la situazione strategica si stava deteriorando per la probabilità poi diventata certezza di un aggiramento da parte britannica di tutta la cirenaica attraverso il mechili ed il gebel compass compass sta annientando un'intera armata italiana movimento rapidità 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 e movimento contro l'asmatica logistica le truppe appiedate e senza nient'altro che non sabbia e coraggio poco da dire tatticamente era intenzione impiegare gli junkers 87 nella zona di bengasi parte del materiale e del personale con l'osm 82 si trovava proprio sul campo bengasino ora seriamente minacciato e in procinto di essere evacuato dalle truppe del reggio esercito a bengasi erano anche le famose fasce per le bombe italiane indispensabile agli stuca quindi i cinque picchiatelli rimasero in un certo senso abbandonati senza benzina munizioni veicolo sulla base mt di misurata ancora in allestimento ad aumentare questo generale quadro di precarietà tipico di quelle situazioni strategiche per tutti gli eserciti giunse il 6 febbraio la notizia che la capitale della cirenaica era caduta e la ritirata proseguiva a merito del maresciallo cimadon va ricordato che il prezioso materiale e il personale inviato a bengasi poté essere tutto salvato con due autocarri giunti l'8 febbraio all mt all'aeroporto di misurata considerata la scarsità di mezzi e di carburante delle forze italiane nonché la inevitabile confusione del momento l'impresa di cimadon non fu cosa da poco tanto coraggio tanto valore tanta inventiva nessuna programmazione ma per una ventina di giorni la 230 esima squadriglia la 236 esima scusate squadriglia esegui qualche volo di controllo e contemporaneamente venivano forniti dal comando tende e veicoli per rendere mobile e autonoma l'unità il 21 febbraio trasferimento a bir du fan dove si presero i primi contatti con gli ufficiali tedeschi e il 23 venne eseguita una esercitazione con aerei tedeschi che mise in luce una notevole intesa anche se necessitavano interpreti per evitare ritardi nei collegamenti in volo lo stesso giorno di nuovo ordine di tornare sul campo mt dove per tutto marzo furono eseguite esercitazioni con bombe italiane da 250 kg con e senza ritardo di spoletta voli d'allenamento e normale attività manutentiva sì perché bisognava mantenere in linea le macchine è evidente che i responsabili della quinta squadra aerea tendevano a limitare l'impiego degli aerei italiani per consentire un recupero tecnico e umano assolutamente necessario situazioni pressoché analoghe a quelle della 236esima squadriglia furono vissute dall'altra unità del 96esimo gruppo la 237esima squadriglia del capitano santinoni giunta il 2 febbraio a misurata con 5 richard 5 stuca r2 privi di attrezzature tropicali privi degli indispensabili filtri anti sabbia per olio acqua benzina privi della capacità praticamente di operare nel deserto vabbè è vero comunque che i 10 r2 del gruppo rimasero inattivi per tre mesi certo non per colpa loro sicuramente quegli equipaggi con i fidi stuca sarebbero stati più utili in grecia albania o a guardia del canale di sicilia potendo agire anche su malta direi che ce lo siamo capito abbiamo tante volte tante volte tante volte parlato della cosiddetta coperta corta ovvero sia vai da una parte non vuoi andare non puoi andare dall'altra ti metti la coperta ti metti ti copri la testa e i piedi rimangono fuori questo è più o meno quello che accadde ai ai nostri picchiatelli durante la 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 catastrofica per noi operazione nella loro sintesi gori e borgiotti puntano il dito su una cosa alla quale molti non pensano e vi rimando ai video che ho fatto in passato la difficoltà per non dire l'impossibilità di comunicare tra aeree in volo truppe a terra e navi in mare non c'era la possibilità gli apparecchi radio in dotazione ad aeronautica esercito e marina non erano compatibili fra di loro lavoravano su frequenze e sequenze diverse e non potevano comunicare e cosa avrebbero potuto fare gli stuca se non decollare e colpire alla cieca e quello praticamente fecero con che risultati con che risultati buoni volenterosi coraggiosi tentativi di sfruttare questo benedetto aereo grazie al cielo arrivano i tedeschi grazie al cielo cioè per come dire mettere una toppa alle grazianate di compass arrivano i tedeschi i tedeschi iniziano a collaborare con gli italiani iniziano a migliorare la reciproca conoscenza spingono anche come ho già spiegato in un altro video gli italiani a un migliore addestramento a imitazione noi facciamo così poi mance spacchetti suona mantolino venite noi dietro più o meno la situazione era questa ma oggettivamente come dire anche i tedeschi non potevano fare altrimenti si trovavano di fronte un alleato avevano un alleato evidentemente debole con una consistenza numerica limitata per non dire sparuta gli toccò far la guerra gli toccò cominciare a fare sul serio cercando in un qualche modo di tappare il buco nel canale di Sicilia e dare una mano in Albania come sempre coperta corta logistica asmatica il disastro della catena di comando italiana che non era inefficace era caotica a dir poco caotica come situazione e ne uscimmo decisamente male l'aviazione faceva quello che poteva ma non poteva fare di più anche perché perché il reggio esercito a terra non poteva chiedere direttamente aiuto all'aviazione oh yes bel casino vero? gran 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 bel casino comunque sia continueremo con questa serie e soprattutto vedremo come i tedeschi consideravano i loro diciamo cuginitti adottivi una storia lunga una storia dolorosa una storia di coraggio sprecato una storia di piloti che hanno combattuto una guerra durissima subendo perdite spaventose e in tutto non erano mai più di 20 o 30 per volta per dire però combattevano fecero quello che potevano probabilmente fecero anche troppo ma diciamo che continuando la lettura dei prossimi capitoli capiremo anche da che parte si va a parare quindi cari signori io vi ringrazio per l'attenzione come sempre commentate qua sotto come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate io aspetto con ansia le vostre considerazioni vi mando un abbraccio enorme ripeto ancora grazie di tutto cuore e come sempre come al solito più di sempre e più del solito un abbraccio fortissimo e soprattutto ciao